Peck nel cuore di City Life Peck City Life è la prima volta che Peck apre fuori dal centro, storico gastronomia, ristorante, notteca, cocktail bar questa è la nostra novità abbiamo portato un pezzo della tradizione di Milano in questa nuova, bellissima City Life, quartiere verticale e quindi in mezzo al parco, in mezzo a questi palazzi di vetro di acciaio si entra in quest'oase di tradizione e si può avere un assaggio della storica Peck